E ciao a tutti amici comuniari della taverna mannaggia a Dylan Benvenuti in questa nuovissima puntata del perché mi vedo una linea verde sotto quando parlo Perché sei sexy, una linea verde è sinonimo di eleganza Ah si, e vabbè ho sminchiato tutta la scena, e ho rovinato la vita a me stesso E niente, vabbè oggi cose di qualità, non si capisce perché rimane a linea verde Ma è seba, è seba Rimane la linea verde Comunque niente, oggi è arrivato il giorno di quella puntatina speciale Io ho sempre i capelli fuori posto Tutti quanti qui hanno i capelli fuori posto soprattutto io Che non ce li hai Né un po' di più Comunque niente, prima di iniziare anche a presentare l'ospite magico Oggi Vi ricordo che solo oggi ve lo ricordo, poi non ve lo ricorderò mai più Che sotto in descrizione codice sconto, anzi link sconto 5% di Gportal Grazie a Gportal che ci sponsorizzi Grazie a Gportal che ci dai da mangiare Grazie a Gportal che grazie a te posso prendermi i mozzarella della Gportal Niente, nessuno ancora lo vede Per oggi puntata mega, spero ganza, dovrebbe uscire ganza Con il nostro amico seba Il nostro amico seba che, eccolo qua il nostro amico seba Un'altra cosa per seba Allora seba, buonasera Tutto bene? Proprio iddo Proprio iddo C'avevo un sogno nel cassetto Vedere la sua faccia Io non ho un cassetto, quindi non ho sogni Ora mi sento garizzato Anche quando dice Bene bene, sono contento Bene 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 bene, sono contento Siete proprio felici Sì, siamo stati contenti Perché era da un po' che avevamo in cantiere questa puntata Un po' speciale, un po' diversa dal solito E ci fa piacere avere un esperto Puoi dire qualcosa Vabbè, tanto lo dirà un po' il titolo Che spero non sia troppo clickbait Tipo giochi storici con uno storico O uno del settore Vabbè, più o meno sicuramente Scopriamo la storia con un archeologo Sicuro Vabbè, niente Oggi parleremo di La scorsa puntata abbiamo parlato di Film basati su giochi Oggi invece parleremo di giochi storici Con uno che studia storia Sicuramente ne sa più di noi Anche per magari scoprire Qualche cosina in più Del perché possono aver messo qualcosa Nei giochi Eccetera E vedere anche se effettivamente Sono abbastanza accurate le storie Esatto Tipo mi viene subito in mente Che ieri Ma è un esame dell'università Esatto C'è proprio così A gamba tesa Vabbè ragazzi Che lui non sa di cosa partiremo Io vorrei precisare questo Ma nemmeno noi Nemmeno noi Io ci provo Io qua ho qualche libricino Quindi Con qualcosa Qualora non dovessi Vabbè Qualora non lo sai Chi se ne frega E non si sa Fine Fine Comunque Tipo ieri Si stava parlando Di Battlefield Ok Che lui stava parlando Di Battlefield 5 Che è stato rovinato Non ci Non lo supportano più Cazzate varie E E poi Viene attirato fuori Anche la Il fattore Politically Correct Che L'hanno tirato Cioè loro hanno messo Tutti ormai Fanno il Politically Correct E Subbate L'hanno fatto Mettendo Gli operatori Donna O insomma I personaggi Donna Come li volete chiamare E Seva ha tirato fuori Appunto Sì Perché Non vi ricordo Quando Sono entrate in guerra Le donne Tanto Battlefield 5 È ambientato Nella prima Guerra mondiale Seconda 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 No Il discorso Che Su cui Avevamo parlato L'altra volta L'altro giorno Scusate Era basato sul fatto Che già loro Dal trailer Avevano mostrato Che Tra le file Dell'esercito Che combattevano Nel trailer Evidentemente C'erano anche Le donne E quindi Lì è nata Diciamo La polemica Subito per dire Ah ecco Vedi ci sono le donne Perché c'è questo discorso Del politically correct Quindi anche all'interno Di un gioco di guerra Prevalentemente Diciamo Maschile Diciamolo così Abbiamo Hanno dovuto inserire Anche le donne Però Bisogneria dire Che storicamente Soprattutto Nell'esercito Nell'esercito Sovietico Le donne Presero parte Attivamente Alla guerra Non solo Come Diciamo Dietro la scrivania Per quanto riguarda Tutta la Burcrazia militare Che c'era da gestire Però proprio anche Attivamente Proprio combattendo Tipo le donne Donne cecchino O Le So se si dice Pilotesse Pilote Sempre Se crede sempre Pilota Soprattutto Sì tra le file russe Il problema Diciamo Che Sono state Questa parte È stata Tra virgolette Oscurata Dallo stesso Regime sovietico Nel corso degli anni Quindi non Ne è mai saltata fuori Come Come tematica Il fatto che le donne Avessero preso parte Alla guerra Attivamente Quindi andando a combattere Nei campi di battaglia Infatti C'è un libro Molto interessante Di una giornalista Di cui Ahimè non ricordo Nel Il titolo dell'autrice Nel titolo del libro In cui lei Ha raccolto Tutte le testimonianze Di queste donne Che effettivamente Avevano combattuto Durante la seconda guerra mondiale Ma pensate E quindi Si è scoperto Questo aspetto Molto Probabilmente Conosciuto E quindi Da lì era nata Questa polemica Del gioco Che poi Comunque Ora Tutti Fanno sta cosa Del politically correct Che Personalmente Non ha senso Perché Uno fa Quello che vuole Perché sta uscendo Fuori anche la storia Che Tipo gli scacchi Sono un gioco Razzista Perché muove Prima il bianco Capito Poi non mi ricordo Di chi Che Che vogliono togliere Quella statua Di quel razzista Le hanno buttato Gio una statua Di un razzista Però Ah si beh C'è stato poi Si beh C'è stata poi Tutta la questione Ma in realtà Sono state diverse C'è stata quella Di Cristofono Colombo Che secondo me Non ha senso Perché Cioè Non vuol dire Che se Adesso è sbagliato Essere razzisti Prima Lo era O perché ora è sbagliato Allora Togliamo quelli Che erano razzisti Prima Cioè Non No ma Secondo me Non sei troppo Stodico C'è il problema Sì allora Guarda Per quanto ne posso sapere Io che C'è Tengo a precisare Che sono solo Alla Come si chiama Al corso di laurea Trennale in storia Quindi di cammino Per corso Ce n'è tanto da fare No però La cosa che Che posso dire Quasi con certezza È che Quei personaggi Vissute Vissuti Nel Cinquecento Sei Settecento Eccetera Avevano una visione Del mondo Che era completamente Diversa dalla nostra È chiaro che Per noi Oggi È normale Dire Ah ok C'è un determinato Comportamento Contro Posso dire Neri O colore Contro i neri Contro Che ne so Gli omosessuali Eccetera Contro Comunque Ciò che è diverso Da noi È chiaro che viene Oggi lo vedi Come razzismo Ed è giusto Anche condannarlo Però all'epoca Era Era diverso Sì Cioè è brutto da dire Magari Però era così Ma come vedere un morto Per strada Prima era normale Come il delitto d'onore Prima era normale Nessuno si scandalizzava Diciamo Sì 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 Fortunatamente adesso Comunque per chi fa Discriminazioni Ci sono delle sanzioni Quindi Esattamente No E questo per dire che Sulla storia Non puoi fare un discorso Di revisionismo In questo senso Totale Sì 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 Perché se no davvero Cioè al di là di Cancellare Secondo me non la puoi cancellare Ma poi Non insegneresti neanche più Con questa logica Bisognerebbe Distruggere alcune opere Di Hitler Per esempio Esatto sì sì Lui Secondo me Anche se ha fatto Uno schifo totale Qua credo che siamo Tutti d'accordo È sbagliato Comunque rovinare la storia Anche perché È un modo Per dire Ragazzi qua abbiamo sbagliato Non facciamolo mai più Cioè Una cosa del genere Sì è un modo per ricordare Comunque anche se C'è una stata Un modo per ricordare Che non dobbiamo seguire Un esempio del genere Esatto Esatto Va bene che magari Una statua È vista come Proprio un simbolo Bello forte Perché faceva una statua Qualcuno Di bello potente Che aveva proprio Un bell'impatto Sul popolo Su Quello che si può avere Impatto Perché ha fatto Qualcosa di grande Come può essere Un grande militare Un grande Imperatore Eccetera Quindi Vabbè che è un gesto Forte però Io penso che Anche se Ormai si può Chiamare Dire politically Correct Non ha senso No no Come D'altra parte Tornando Ritornando un attimo Su Butterfield Per esempio L'avessero fatto Su un Butterfield In In epoca moderna Se mi ci metti Un personaggio femminile Non mi fa Né caldo Né freddo Cioè nel senso Va bene Lo fai Però se tu Ti presenti Con Butterfield In questo caso Come hai detto anche te Seba Sulla seconda guerra mondiale Dove Storicamente parlando Non c'erano le donne Nelle prime linee Dell'esercito A parte adesso Questa cosa Che non sapevo Sulle linee russe Sì su quello russo Sono sicuro Non credo Sugli altri fronti Quindi quello tedesco Piuttosto che Alleato Dalla parte degli americani Degli inglesi E tu te ne esci Con un Butterfield Che comunque Ha sempre un po' Puntato Su quel realismo E poi Mi cadi Su un Inaccuratezza Storica È un po' Un mercato Tutto lì Poi da videogiocatore Non mi fa Né caldo Né freddo Perché Butterfield Non lo gioco Per la storia Lo gioco Per divertirmi Assolutamente Però se volessimo Fare i pignoli Vedere L'accuratezza storica A volte Sì esatto Se vuoi vedere Il contesto Comunque c'è un qualcosa Che devi sempre considerare Sicuramente La loro Io credo Questa La mia opinione Suggettiva Credo che La loro scelta Di inserire le donne Al di là di questa Parentesi Che vi ho raccontato Sia stata frutto Anche Dell'epoca In cui viiamo oggi Quindi Si cerca questa parità Tra i sessi Quindi anche Nel mondo videoludico Io A combattere di fianco A un uomo Che sia Bianco Che sia nero Ci metto Cinese Giapponese Ci metto la donna E secondo me È un discorso Vabbè Accettabile Non è Il discorso ci sta Ha fatto solo polemica Il fatto che C'erano appunto Le donne Che combattessero A fianco Proprio in mezzo Al campo di battaglia Quello ha fatto Molta polemica Ma ripeto Il discorso ci sta Per me va benissimo Lo fai su un Battlefield Adesso Il problema Cade C'è quando Tutti presenti Ora fortunatamente Non credo sia Il caso di Battlefield Perché non si presenta così Però se un gioco Si dovesse presentare Come storicamente Accurato Allora lì ci sarebbe Un'incongruenza Certo Perché giustamente Per quanto Adesso Magari Non può sembrare Political Correct Devi considerare Che all'epoca Comunque Per esempio La seconda guerra mondiale Le donne Non erano in prima linea Quindi se mi fai un gioco Storicamente Accurato Sulla seconda guerra mondiale Non puoi Sbagliarmi Nessuna virgola Poi Ribadisco Fortunatamente Non è quello A cui punta Certo Ma infatti Infatti Gli stessi sviluppatori Ricordo Che Penso Prima che uscisse il gioco Comunque durante Avevano dichiarato appunto Che Avevano fatto una parentesi Loro stessi Dicendo No questa è la nostra versione Di seconda guerra mondiale Allora ci sta Quindi Esatto Quindi c'è anche Un discorso di interpretazione Tra virgolette Personale È un reboot Sulla seconda guerra Esatto Esatto No anche perché poi io Che aprendo Che un discorso Su Battlefield 5 Come dicevo Lo stesso Albongepo L'altra sera Che ne parlavamo È che loro Comunque hanno Secondo me Buttato fuori Un gioco incompleto Nel senso che Al lancio Mancavano anche Tutte le altre Un sacco di fazioni Mancavano Mi sembra La fazione americana Mancavano un sacco Di armi Utilizzate Durante la seconda guerra mondiale Perché Diciamo che Il loro obiettivo Era aggiungerle Man mano In itinere Però Poi è una cosa Che non hanno più Sostenuto Quindi Hanno fatto proprio Secondo me Poi hanno fatto proprio Un flop Su tutta la linea Infatti ha detto Sia della community Che da stesso Il Battlefield 5 È stato un flop Totale Adesso è uscito Qualche giorno fa Qualche ora fa Anzi Qualche ora fa Qualche leak Su un prossimo Battlefield Però Non è diciamo Questa la puntata In cui ne parleremo Parliamo poi Una prossima volta Sembra interessante Dico soltanto Che è ambientato In epoca moderna Quindi ritorniamo Agli origini Esatto Perché In serie Hanno fatto uscire L'1 e il 5 Che erano già In epoca Indietro Prima dell'1 C'era L'Hardline L'Hardline Che a me Però quello Era comunque In roba moderna Anche Hardline Sì Quello era tipo Era tipo Poliziotti Contro Criminali Terroristi Esatto Io ragazzi Sono rimasto Affezionato A Bad Company 2 Bello E al 4 Io Per me Guarda Io C'ho spettato talmente Tante ore sul 4 Che per me Quello Quello è stata È la mia Cilogina Sulla torta Io invece Mi ci sono ammazzato Sul 2 Quando giocavo Alla play E poi Il 3 Su pc E beh Il 2 Io spero Io non sai Che possa unire Il bello Di Bad Company 2 Il bello Delle tecnologie Speriamo 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 Perché Sulla carta Anche Battlefield 5 A livello di distruttibilità Del mondo di gioco Di gameplay Si presentava Veramente bene Poi vabbè Sì È successo Quello che è successo Però Secondo me Potenzialmente Hanno delle Ottime basi Per fare un ottimo prodotto Poi si vedrà Sì Speriamo Invece L'1 Su che Era ambientato Quello sulla Prima guerra mondiale Ah l'1 sulla Prima guerra mondiale Quindi Butterfield recente Sulla prima guerra mondiale Non è stata una novità L'hanno già fatto Quelli della DICE Sì Non lo sapevo Non so se è stato Allora non so A livello Di storia Videoludica Se sia stato Il primo titolo Ambientato Nella prima guerra mondiale Ma certamente Fra i primi Perché Io conosco quello Conosco DFPS Intendo Quindi quello Verdun E poi hanno fatto Che era di una casa A parte Quindi che non c'entra Quelli EA Eccetera eccetera Cioè su Steam Quella ambientata Appunto E ne hanno fatto Sempre questa Casa sviluppatrice Hanno fatto uscire Sempre un altro Titolo Ambientato Su un altro fronte Della prima guerra mondiale Ah ci sto Ma Propose di guerre Vi faccio una domanda Brucia pelo a tutte e due Ma In contesti Videoludici Tipo Battlefield Tutto Preferireste Rivivere la prima O la seconda Guerra mondiale Nessuna delle due O Magari Un FPS Mi raggiungo una terza opzione In epoca moderna Come possono essere I COD O i Battlefield 4 O tarate A parte di intendersi Parlo A livello di gameplay Allora Io a livello di gameplay Preferisco di gran lunga Il gioco ambientato In epoca moderna Ma anche perché Fin da piccolo Ho sempre giocato Cioè i vari FPS Erano tutti ambientati Nella seconda L'ora mondiale E quindi Quasi tutti Comunque la maggior parte E quindi È sicuramente un tema Molto Cioè è stato molto Trattato e ritrattato Nel mondo video Tipo Modern Warfare 2 No Modern Warfare 2 Proprio Call of Duty 2 Quello vecchissimo 1,2,3 1,2,3 Già partiti da quelli Siamo anche in periodo Come risposta A me da Lovone Fine anni 90 Inizio 2000 Quando in parallelo Avevamo anche il cinema Che spesso era Sì 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 Vedi un Salvato il soldato Ryan Ora aspettate Perché vado a cercare Un giochino Vecchio vecchio Non so se ce l'ho Ancora di là Voi parlate Vado a vedere Se ce l'ho Perché era molto bellissimo E no Seba Concordo anch'io con te Per lo stesso identico motivo Cioè L'abbiamo già rivista Rivista sotto ogni sfaccettatura Sia a livello videoludico Sia a livello cinematografico E quindi a livello di gameplay Anche io preferisco Videogiocare a qualcosa In epoca moderna Per quanto riguarda Gli fps militari Certo Ma anche Guarda Pensavo anche agli strategici Cioè Proprio il campo Della seconda guerra mondiale È stato Trattato Tantissimo Cioè Veramente Veramente tanto Poi probabilmente C'è chi l'ha fatto bene C'è chi l'ha fatto un po' Meno bene A chi Un po' Biosoricamente Accurato Chi meno Però comunque È stato tanto Trattato come Come tema Prima guerra mondiale Ti dico Poco Un po' meno È vero Parlando del Del ventesimo secolo Poi sicuramente Per il resto Un po' Medioevo Impero romano Eccetera Tutto ora Vengono utilizzati No è vero È vero Ma tra l'altro hai tirato fuori Un barri argomento Con degli strategici Perché Non so te Se lo conosci Se ci giochi Per esempio Io sono un fan Sfegatato Di Company Virus Aspetta che è tornato Con il buon Aspetta Battlestrike Ah Battlestrike Mamma mia Non so se lo conosco Non lo so Di fama Di fama E tra l'altro Non si sa dove Però ecco Questo Diventa un soldato Di elite Della seconda guerra mondiale Anche questa Era della seconda Ma io ho proprio di tu Con il caschetto E non so Non c'è nemmeno scritto Che anno L'hanno fatto 2004 2005 Credo Eh Chi sono più Non è dato saper Siti interactive Ah ok Ok Comunque Scheda vita 32 mega Mamma mia No questo comunque Era veramente bellino Mi ci sono spezzato Un botto E niente Vada io Quegli anni lì Mi ero divertito Cioè Quelli La mia saga preferita In quegli anni È stata quella Di Medal of Honor Alien Assault Sì Quella è stata La mia preferita A me Medal of Honor Mi faceva Anche quella Era molto bello Sì Ma tra l'altro Non so se lo sapete Il proprio Il primo Alien Assault Che è del 2002 Se non erro 2001-2002 Che dirò Medal of Honor Non so se è quello Non ho letto bene Ma la scena iniziale Di Ali d'Assault È l'assalto A Oma Beach Nel 44 E tutta quella Quella sequenza di gioco Che c'è Della prima missione È presa proprio Dalla salvata il soldato Ryan Proprio uguale Specificata L'hanno rimessa Sul videogioco E invece L'altra cosa Praticamente Sì esatto È tutta ispirata Al salvata il soldato Ryan E Mentre COD Forse il primo Ma sicuramente Il secondo Quando tu giochi Nei panni Della fazione russa Vesti i panni Di Vassili Zaizev Che è Quel cecchino Che c'è Nel film Nemico alle porte Con Jude Law Ed Harris Che para Della sedia Di Stalingrado E Rebuttate anche In Nei giochi Quelle scene lì È ancora È ancora più figo Addirittura Mi ricordo In World at War Sì Io non l'ho giocato Però ho visto La sequenza Di quando appunto Sei con la fazione russa In cui c'è L'incontro Il primo incontro Con Reznov Mi pare si chiami Il personaggio Che un po' ti guida All'interno del gioco Che sono nella fontana Con tutti i corpi morti Ok Ecco Quella scena È esattamente Iguale A Una che c'è Nel nemico alle porte Non me la ricordo Ti senti Quasi tutte cose Si scoffrono Con il buon segno Che c'è Che c'è E neanche filmografo Ho tutto Mamma mia Ma che dire Siamo passati alla guerra Cambiamo genere storico E anche genere videoludico Io per esempio Faccio avanti Qui si è fatto avanti Gip ora Dico io Sono fan Di Uncharted Io amo Uncharted E so che Uncharted È tanto vero Il protagonista È Nathan Drake Che prende il nome Da un grande Corsaro Che è esistito Veramente Ovvero Sir Francis Drake E volevo chiederti un po' La sua storia E bene o male Anche fare un po' Un confronto Con quello che viene detto In Uncharted E quello che è reale Ovviamente in Uncharted C'è molta fantasia C'è molto romanzato Ovvio Però volevo sapere L'opinione tua Che sei uno storico Allora Allora Sì Nel senso che Il discorso di Uncharted Ma Mi sembra tutti i quattro titoli Se non erro Partono da una base Tra virgolette Storica O di C'è personaggi storici Che Hanno intrapreso Diciamo i loro viaggi Le loro peripezie Le loro avventure Nel cercare Quei miti E quelle leggende Esatto Aldorado Che era una leggenda Non sbaglio So che è una leggenda Poi che sia Una leggenda Una leggenda Sì 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 No certo Non mi sembrava Niente che è una leggenda No no certo Tutti gli Uncharted Si ispirano A livello di trama Su miti Leggende Che ritroviamo Anche nel mondo reale Di diverse Civiltà Di civiltà Di civiltà Differenti Sulla figura Di Nathan Di Francis Drake So che appunto Come dicevi tu Era un corsaro Al servizio Della regina Elisabeth Prima In Inghilterra Quindi siamo Nel Nel 1500 So che siamo Più o meno Più o meno Tutto Quasi tutto il secolo Ovviamente Non tutto Però Non ti sto dare informazioni A riguardo Perché Non è un personaggio Che almeno Io nella mia università È una cosa Che si studia Perché È uno più Legato Probabilmente All'ambito Della geografia storica Più che Alla storia di personaggio Però È uno che Sicuramente È un tema Che uno Può tranquillamente Approfondire Io purtroppo Non Non ho Però Credo proprio Che ci siano Degli studi O comunque Delle monografie Che parlino Di questo personaggio Mi ha sempre Affascinato Per come l'ho visto Diciamo Nella parte romanzata Quindi dentro Il videogioco Però mi ha Sempre incuriosito Ecco Perché comunque Di fama So che è stato Un grande corsaro E Volevo un po' Rivedere Le sue avventure Che poi C'è differenza Tra corsaro E pirata Sì sì C'è differenza Tra i due termini Perché il pirata Vabbè Quindi sono Gli stessi Sostanzialmente Sono Diciamoli Soldati Dei vari governi Che vanno A attaccare A fare Razzie Contro le navi Delle altre Degli altri regni Proprio per Una sorta di guerra Commerciale Legalizzata Perché Formalmente Tu avevi Il consenso Il contratto Da parte Del tuo stesso governo Di differenza Dalla pirateria Che invece È una cosa Che uno fa Senza Senza avere Alcun tipo Di bandiera Quindi è Criminalità Allo stato puro Mettiamola così Va bene Ok Interessante Perché molto spesso Comunque capita Anche nelle conversazioni Si fa confusione Tra i due termini Certo A volte Uno pensa che Corsago sia sinonimo Di pirateria No Correvano Corsa Correvano con le navi Seba facciamo una cosa Usiamo da questa chiamata Ti chiamo privatamente Continuiamo il podcast Ok Eppure Guarda Tanto ciego Aspetta Però io sento Che Stanno ridendo tutti Guarda Mi sento anch'io Guarda No Sì Questa è la differenza sostanziale Infatti a tal proposito Adesso sto Vabbè Dico così In università Sto seguendo un laboratorio Proprio sulla storia Dell'informazione Nel Mediterraneo Del Cinquecento E infatti Devo farmi questo bellissimo libro Se poi qualcuno è interessato Magari uno lo può trovare Aspetta Vediamo se si vede Sì Arrivano le turchi Arrivano le turchi Gomblotto Ragiono il Mediterraneo 3532 Sì Sono tipo 50 anni Che parla un po' Del Poi c'è tutto Il discorso Questo periodo storico Legato a Al neo impero ottomano Che Che si era formato Da circa Centinaio di anni Sì Se qualcuno Poi vuole approfondire Di temi Lì allo storico Da cui puoi partire Ce ne sono tantissimi In questo senso In questo senso Magari come dici tu Il videogioco ti può aiutare Cioè tu giochi a quel gioco Che magari si ispira A quella tematica A quel personaggio E dici Ah ma c'è Io voglio Perché no Voglio andare a approfondire Tramite la lettura Libri Documenti Eccetera Di cose Effettivamente Parla quel tema O quel personaggio Poi Infatti io mi ricordo Vagamente O dei flash Che dopo Ancierti 2 Che ero un pochettino Più piccolino di adesso Sono talmente infissa Che io mi ero fatto Un quaderno Che poi io ho presentato Tra l'altro A mia professoressa di storia Dove mi ero fatto Tutte le ricerche su Sia Francis Drake E poi da parte Su la leggenda reale Quindi Di Di Esatto Non ho concluso Nulla Non mi sbagliavo Perché era tutto preciso Io che poi scrivo a caso Praticamente L'avevo fatto con molta cura Perché mi va Sicuramente Vabbè Vedi Però è una cosa Molto interessante Perché tu Dal gioco Hai detto Ah cioè Voglio approfondire Storicamente Quello che è il personaggio Esatto In quel caso Poi la leggenda Di Eldorado Esatto Il videogioco In questo senso Può anche aiutare Ad aprirti un po' Magari Di qualche interesse Qualche Qualche cosa Ispirarti Qualche lettura Qualche studio Questo si Vero Vero Tipo Io Ho imparato L'inglese Giocando a minecraft Beh ci sto Ci sto Alla fine comunque Su minecraft Ci sono tantissimi oggetti Quindi Ci sono tantissime parole Già all'inizio A capire un pochettino Le parole in inglese E poi Vabbè Giocare a cs Guardare Video In inglese Di giochi Che te conosci Ti aiuta Perché magari Non sai che cosa dice Ma intuisci In base a quello Che vedi E niente Possono aiutare Anche a capire Qualche lingua Sì Assolutamente Tutti noi Di questa generazione Che è nata Con i videogiochi Sia riuscita a imparare In inglese Più Più sul campo Di battaglia Diciamo Che Che è la miglior cosa Perché tanto Tantissime regole Tantissime regole Che ti insegnano a scuola Non esistono Tipo il pass simple Te non lo utilizzerai mai Cioè non Te puoi parlare a casaccio Ma lo parli bene Cioè non Non hanno regole Quando lo parli Effettivamente Come Beh a Londra Se sbagli Qualcosa Ah vabbè Ma Londra Londra è una nocciolina In differenza A tutta Sì Tutti gli Stati Uniti No ma penso che lui Intenda Se stai giocando Anche se sbagli Il tempo verbale Nessuno ti dice Ma anche se sei A giro per l'America Perché è la stessa cosa Che succede qua in Italia Magari C'è uno che parla Un po' male Ti dice qualcosa male Non è che gli stai A correggere Capisci Comunque Stessa cosa funziona Anche lì No no Ho fatto stato comunque Sono l'idea che sia Un'ottima combo Imparare un po' Delle basi Con corsi Scuola Quello che è Poi farsi diciamo Le ossa O nel campo da battaglia Vabbè proprio Che sarebbe la migliore Quindi andando sul luogo Oppure magari Videogiocando Guardando il film O se siete voi Sì leggendoli Poi ognuno Giustamente lo fa Nel modo che ritiene Più opportuno Però Secondo me anche i videogiochi In questo senso Hanno Un po' una funzione Secondo me Educativa Sì anche perché Anzi il traffico di Nascale Che insegnano Sì è vero È vero È vero È vero Un altro gioco Anzi Saga Che Con Gippo Questa è una delle poche cose Che abbiamo detto Poi gliela chiediamo Che a me personalmente Ha appassionato Un pochettino di più Alla storia È stata anche La saga di Assassin's Creed Ah c'era scontata Banale Assassin's Creed Ecco Assassin's Creed È accurato Storicamente parlando Allora Storicamente parlando Nì Nel senso che Sicuramente È molto È molto curato Il contesto Storico In cui Lo sviluppo del gioco Viene fatto Quindi I costumi Gli equipaggiamenti Che utilizzano gli assassini Comunque Sono tutti più o meno Armi Di quell'epoca là Sostanzialmente Quindi Tutti diciamo Gli utensili Gli oggetti Che vengono utilizzati La lama celata Esisterà veramente Quella è sicuramente No Quello Oddio O almeno un qualcosa No Non saprei Quello Bisogna proprio Vedi Bisognerebbe leggere Le robe come Spionaggio Questi libri qua E vedere Nel mondo Delle spie Dell'epoca Come All'era delle informazioni Come viaggiamo Se effettivamente C'erano degli strumenti Un qualcosa Come magari Siamo abituati a vederli Nei film O nei videogiochi Quindi secondo me Assassin's Creed È una saga Molto curata Dal punto di vista Del contesto Storico Un po' meno Magari Sui personaggi Che tratta Perché ovviamente Poi la storia È tutta Ovviamente La storia è romanzata Quindi Magari ci sono Dei personaggi Che intervengono nel gioco Che magari Nella realtà Non avrebbero mai Fatto una scelta del genere Non avrebbero mai Avuto certi tipi di Dei Certi tipi di strategie E quindi Giustamente Lì si sviluppa Su un filone Completamente Di fantasia Però come dicevamo Si appoggia sempre A delle basi storiche Diciamo Tutto sommato Concrete E' più emblematico Per farti capire il contesto Assassin's Creed 2 Tutto La parte Del rinascimento È un po' dopo Italiano Perché comunque Arriva fino Alla seconda metà Del cinquecento Quindi comunque Sei Sei ben Immesso Ma anche Oltre il rinascimento Ok Ok Tra l'altro Mi ricordo Le due C'erano personaggi Importanti Come Inci Tra l'altro No Mi è Sempre piaciuto Assassin's Creed I primi in particolare Quindi Quelli che trattano La storia Di Desmond Certo E poi Forse il quattaro Per i gameplay Black flag Che mi è piaciuto I famosi pirati I propri pirati Quindi senza una bandiera Ma come facciamo noi Su Sea of Thieves Esatto Proprio così Che riprendiamo il megaponino Coglioni Questi erano i primi pirati Siamo i pirati di Wish A mio avviso Gli Assassin's Creed Hanno sempre fatto Una Come dire Un'ottima moderazione Fra la parte Diciamo storica E quella Romanzata Inventata Dalli stessi sviluppatori Quindi Hanno comunque creato Quel contenuto Che ti faceva incollare Allo schema Per dire Oh che figata Che cosa succede La storia è bella E allo stesso tempo Dire ok Comunque sei anche immerso Nella storia Anche perché poi La cosa che mi ricordo Tipo Che iniziava dal 2 Il fatto che Essendo ambientato In Italia E poi in altre In altre parti del mondo Loro mettevano magari La descrizione Di monumenti Che tu visitavi In gioco Quindi qui Anche sta roba Di Mi viene in mente Firenze Santa Maria Novella Santa Maria del Fiore La guardia nel videogioco E dice No Mi piace Ma quindi C'era la stazione Dei freni A Santa Maria Novella Anche mi ricordo Quando avevo visto Il colpo d'occhio Io sono visitato Una volta Venezia Giocando In Assassin's Creed 2 Mi ricordavo Le strade In un gioco Mi ricordavo Le strade Nel 1000 Però Un gioco Ambientato Nel 1500 Cioè Piazza San Marco Con la torre La basilica Cioè ragazzi Spettacolare Ubisoft è sempre stata Grandiosa Nei ricostruire Le città Adibita A quel contesto Come hai detto Te Anche Le usanze La popolazione In sé Dato anche Sì Una cosa che si può notare Parlando di un contesto Odierno Su Su Region Samu per esempio Lo sta giocando Siamo stati a Londra L'anno scorso Ormai E ha detto che Londra è ricreata Ma infatti È proprio Quello che hanno fatto Anche Piccadilli Che Se te la giochi su COD Piccadilli Di Prendete Sempre la stessa Anche su COD Modern Warfare Quello nuovo È uguale Vai su Legion Uguale Vai in Real È uguale E questo È veramente Ganso Vedere Certe cose Con le tecnologie attuali E con le informazioni Che abbiamo E comunque Tutto questo Se te vivi a Londra Mi pare L'hanno detto anche loro E ci sono anche Le viuzzine Proprio di Londra Quindi se conosci bene Londra Ti puoi muovere bene Anche Puoi anche Tranquillamente giocare Senza mai guardare la mappa Perché sei Io voglio un gioco ambientato Io voglio un gioco ambientato a Genova Io voglio un gioco ambientato a Prato Anche se Prato Non lo conosco Mi ricordo Ad esempio Che giocando Ad Assassin's Creed 2 C'era che diceva Che si muoveva a Firenze Tranquillamente Anche se Qualche cosa mancava Ma ci sta Perché ovviamente Non è la Firenze Del 2000 Degli anni 2000 Ma è una Firenze del 1500 Ma dicevano che si muovevano Senza usare la mappa Quindi per dirti Come A livello di contesto Era come fosse Come fosse accurato il gioco Sì diciamo Adesso Firenze Non è proprio Molto accurate Di come era Prima 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 Ci sono tante strade Le hanno rifatte Diciamo Sono poche le zone Quelle Rimaste storiche Che La più storica Comunque Il ponte vecchio Non è il Duomo Nel Duomo Non è rimasto Sì sì Ma l'unica cosa È che Cambiarono La palla In cima Perché cascò E c'è proprio Una Un coso Un quadratone Gigante Di colore diverso Mi sembra Lì è proprio dove Atterrò La pallona Che c'è in cima Quindi se non lo sapevate Ora lo sapevate Molto interessante Coppia sempre Tante cose Tante cose Non ci vede mai Di imparare Ma sempre di Assassin's Creed I templari Ovviamente Sono stra Iper romanzati Nella sala Sì 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 Assolutamente Ma realisticamente Parlando L'organizzazione Templare Che se non sbaglio È esistita Comunque Sì sì Nasce proprio Con le crociate Era È un ordine Che viene Se non erro Promulgato Dalla stessa chiesa E era Credo Adesso Dico Queste cose Perché Per quello che ho studiato Di storia medievale Io non sono medievista Quindi ho fatto Una storia generale Però doveva essere Una Voglio dire una cagata Un'organizzazione Su base Anche volontaria Quindi ovviamente Doveva avere Le possibilità economiche Per poter entrare A far parte Perché la guerra Non era Era concepita Come qualcosa Fatta soprattutto Dai ricchi E dai mercenari Nell'epoca medievale Quindi tu effettivamente Potevi andare in guerra Se avevi i soldi Per poter Permettere L'equipaggiamento Il cavallo Le armature Eccetera Eccetera E quindi dicevo Un'organizzazione Che era stata Promossa Dalla stessa chiesa A cui Adirivano Chi Effettivamente Aveva Idealmente Questa Questa voglia Di voler Liberare Per così dire La terra santa Dagli Cosiddetti infedeli E Quindi intraprendere Questa avventura Verso le terre d'oriente E quindi effettivamente Le prime Almeno la prima Direi Crociata È stata Anche a livello storico Quella che Ha avuto Sicuramente risultati Più concreti Perché effettivamente I crociati Revarano fuori Gerusalemme Riuscirono a riconquistarla E fu Proprio sentita Anche dal mondo cristiano Come Un Qualcosa Proprio Cioè Chiamola così Chi ha partecipato Alla crociata Di quell'epoca Di quel tempo Ci credeva In ciò che stava facendo Poi Col passare del tempo Era diventato Uno strumento Nelle mani Dei Dei papi Un po' per E Degli stessi principi O comunque Di cavalieri Che vi predevano parte Per ottenere Denaro Ricchezze Anche lo stesso Territorio in oriente Quindi c'è un po' Questa doppia faccia Della medaglia Sulle crociate Nascono con l'idea Di fare un qualcosa Dal loro punto di vista Giusto Corretto Quindi riprendere Quelle terre Che un tempo Erano appartenute Al mondo romano E in cui era nato Gesù E In questo ci credevano Almeno all'inizio Poi è stata La cosa Poi i tempi Sono cambiati E giustamente Anche la chiesa È fatta di uomini Ha guardato anche I suoi interessi A livello economico E territoriale Poi comunque Questa faida Tra occidente e oriente E poi nel medio Direvo una cosa Che c'è da sempre C'è sempre Soprattutto da Direi dal VII secolo in poi Dopo Cristo Di oriente C'è Questo Questo scontro Fra la civiltà Occidente E quella d'Oriente Ora io c'ho una cosa Che Io storia Non me ne è mai fregata Ma io non capisco se Dica C'è il cane che gratta la porta Io Non ho mai studiato storia Sinceramente Non mi è mai interessata O Quel poco che ho studiato Non mi ricordo Una sega Solo L'unica cosa Che non ho mai capito È Perché dopo Cristo Avanti Cristo E C'è Perché Tipo non so C'è Non so Cento dopo Cristo E cento avanti Cristo Sono date uguali Ma più o meno Che C'è Che anno sarebbe Allora L'anno In sé Non te lo so dire Correttamente Però Si inizia a contare Perché è una sorta di convenzione In realtà Cioè che si iniziano a contare Gli anni a partire Dalla morte di Cristo O Scusami Dalla nascita Volevo dire Dall'anno zero L'anno in cui nasce 33 muore E poi Quindi da là Chiami tutto dopo Cristo Adesso non so esattamente Gli studi che sono stati fatti Per Arrivare a Diciamo Stabilire il momento In cui tu parti A contare L'anno zero Perché comunque È sempre una convenzione Cioè Ovviamente Non è che So che Gesù è nato Bambli E quello è l'anno zero Chiaramente è una cosa Che fai anche un po' Più a livello Ideologico Concettuale Sì Eh sì È più una Convenzione Per Per Semplicità Perché non potevano fare Direttamente No? Come Tipo Anno zero Anno uno Anno due Anno tre Anno quattro Fino ad arrivare Al Duemila E bimbi Duemila B e santo c'era Vedi tu hai un pallino Qua da notte La domanda Che mi sorge Questa non ho una risposta È come A questo punto Se per l'occidente Si inizia a contare Gli anni Dalla nascita di Cristo È vedere Adesso Perché davvero Non lo so È vedere Se Anche dalla Parte d'Oriente Quindi Il popolo arabo Anzi Come il popolo arabo Inizia a contare Gli anni Che mi sembra Che loro lo facciano Non so se Non vorrei dire una cavolata Non so se loro Li fanno contare Da partire Dalla nascita O comunque Dalla morte di Maometto Quindi siamo già Nel Nel 600 600 600 e passa 650 Se non erro Dopo Cristo Maometto viene Molto più in là Dopo Dopo Gesù Sì È tutto un argomento Molto Subito Guardano al volo Perché tanto dovrebbero Ma Qualcosa di Vabbè Comunque i crociati Sono fighe Cioè I templari Sono fighe Hanno loro perché Ma guarda Io parliarei ore Con quest'uomo Anche Delle organizzazioni Per esempio Segrete Adesso Molti complottisti Per esempio Associano direttamente Gli illuminati Massoni A complotto Però Se non sbaglio Queste sono state Organizzazioni Che secoli fa Sono esistite Veramente Sono nate La massoneria Intendi Sì 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 Sono Sì sì No Sono Associazioni Che sono nate Veramente No no Il problema è stato No beh Ma ci sono ancora Le massonerie Cioè in Italia Abbiamo ancora Le massonerie Solo che Adesso sono Regolamentate Dalle leggi Nel senso che Tutti Coloro che sono Iscritti Alle massonerie Sono registrati E si ha nome E cognome Perché Da partire Dalla famosa Loggia P2 Quella loggia deviata In cui All'epoca Non c'era Questo obbligo Di sapere Chi Faceva parte Della massonera O meno Chiaramente Dopo tutto Quello che è Successo In Italia Hanno dovuto Regolamentare Anche questa cosa Qua Però la massoniera È una cosa Che esiste Da no Cioè Si 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 Ma è un argomento Che mi è sempre Affascinato Così ma tutto Ciò che è un po' Segreto Si ma Tipo Se vi interessano Cose del genere Cioè su Netflix Warrior Nun Sono praticamente Le suore guerriere È una figata È veramente È proprio ganso Perché proprio Riprende questa cosa Della chiesa Che c'è la sua Organizzazione segreta Perché poi Poi ci sono Tipo Le Demoni Che devono Che sono Tra di noi E quindi loro Devono proteggere Le persone Bla 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 È una cosa segreta Ed è molto figa Tutto Vaticano Chiesa E ganso Come hai detto Che chiamo? Warrior Nun Non lo conosco Comunque ho controllato È morto nel 632 Ma ho metto Medina Quindi siamo Ben oltre La nascita Di Gesù Ma pensa a te ragazzi No È molto affascinante Io La storia per esempio A me è sempre piaciuta Sia A scuola Seba Oddio L'ho visto bloccato Così E mi sa che È un po' L'emozione Di essere qua Con due Perfetti idioti Che tra l'altro Per chi non lo sa Seba Prima Era un iscritto Era un iscritto Al canale Prima di Sì ma prima Di conoscerci Di conoscerci Eri Un iscritto Una volta Io scrissi Chi vuole giocare A Tarkov Rispose Grey E seba E da lì Abbiamo più spesso Di giocare Ah sì perché io ti ho conosciuto Per caso perché Avevi fatto i video Cioè portavi i video Su Tarkov Ma parliamo del 2016 2017 Quattro anni fa Ormai Quattro anni fa Ho scoperto così Davvero Ho scoperto il gioco Guardando Due Due youtuber americani Sì Io ero E l'altro Aculite Ah io da Mike Devike E sempre Anche Devil Dog Da lì mi sono interessato Poi Non so se mi era uscito A casa che non so Non mi ricordo neanche Come ti ho trovato Però ho visto Mi ricordo che forse Nei suggeriti Mi usciva Escape Front Arcovita Cliccato su Bel faccino Al Valorenzo E era Interessante Ma chi è quest'uomo? Ma chi è? Vabbè Ma roba Dell'Asia Hai studiato qualcosa È roba che studi te? Sì Sì Per un uomo Purtroppo Vi devo dare una risposta negativa Nel senso che Almeno per il mio corso di laurea Attualmente non c'è una storia Del mondo d'Oriente Almeno qua Dove studio io a Milano Quindi è una cosa che Uno certamente Può approfondire Con i libri Ma sicuramente Temi sull'argomento Ce ne sono tanti Io purtroppo Anche a livello Di manualistica Non ho studiato nulla Se non Due o tre pagine Che cita Il manuale No perché c'era tipo I Total War C'è lo Shogun No ma sai perché Probabilmente perché Sono diciamo Civiltà Mi sembra una cosa razzista Però Sono talmente lontano da noi Come Appunto come star Come mentalità Eccetera Che O non hanno avuto Così poca influenza In occidente Che Sono cose che Non studi Cioè che non fanno parte Nel tuo percorso fondativo Devi fare proprio Un percorso Ballo lungo Per specializzarti In quello Sì E esattamente Cosa studi Di preciso Allora Alla triennale Sono Cioè il corso di l'ario Si chiama proprio storia Quindi vai Potenzialmente Dalla storia greca Fino ad arrivare Alla storia contemporanea Quindi quella dei giorni nostri Vabbè molto fino Poi Esatto Poi c'è la magistrale In cui tu Puoi scegliere il tuo ramo Diciamo di specializzazione Quindi se vuoi Puoi studiare La storia contemporanea Quella moderna Quella medievale Quindi vai più nello specifico Tratti i temi Più nello specifico Di quella Diciamo Di quella macro categoria Di una di queste macro categorie Poi c'è il dottorato Che sono appunto Tre anni di ricerca In cui tu Nel campo In cui tu scegli di operare Vai a effettuare una ricerca Che dovrebbe durarti tre anni Bello però Bello E quindi Hai studiato American Sniper È quello che mi piacerebbe fare È quello che mi piacerebbe fare È bello Bello Molto bello Quello sarebbe molto bello Sì Hai studiato American Sniper Hai studiato in che senso? La sua storia E quella guerra Che si cita in American Sniper No Ha visto il film Non ho letto il libro Ho visto il film Quello È quello con Bradley Cooper No? Quello che lui è Appunto Yes Il cecco del Non so se Ripaterla tu Gnano No no Ho letto qualcosa Però è Quello è proprio Diciamo L'epoca moderna Perché credo che sia la guerra In Iraq Se non era Quindi 2003 C'è un libro C'è un libro ragazzi Che vi potrei segnalare Però io non l'ho ancora letto Perché non ho avuto il tempo Adesso ve lo prendo Senza fare Brutti i movimenti Che ciò Se volete leggerlo Vi do Di qualche spunto Perché sappiamo Che sotto è senza mutande No no Di 1100 diversità Infatti Ed è questo libro qua Che parla proprio Della guerra in Iraq Ah Ed è un libricino di Ma è Massimo Boldi Quello lì Sulla copertina No 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 Ma è un libro di No 100 Ma neanche È veramente piccolino Saranno 150 160 Ma io mi stanco Già dopo mezza pagina Quindi sono tante Ah interessante Sulla guerra in Iraq La storia interessante Ma sì Comunque Sono molto Cioè A me interessano Cosa del genere Della guerra Ma non da studiare Per informazione Comunque ti tocca leggere Ma le informazioncine Così che Come non so Come si fa all'uovo To Leggi Ora sai come si fa Non sai questa cosa To vai a leggere Perché Dylan è genovese E ora lo sai È biggetto È biggetto Come dicono Come dicono in francese Eh Proprio iddu Proprio lo Ah no Però come dicevo Se Chiunque voglia giocare Un gioco A videogioco A tema storico Che sia FPS Strategico Terza persona Eccetera Può essere un buon inizio Per poi fare una ricerca O dire Ah vabbè Guarda Mi interessa questa roba qua Di questo Il gioco lo accenna O è l'ambientazione Mi ispira Vado a A studiarmi In qualcosa del genere Ma visto che l'hai giocato anche te La Grecia E hai giocato Phoenix Immortal Phoenix Rising Quello proprio Quello là Quello là Che ti deve ancora finire Adesso non fate story Esatto No Il proprio I Credo Tutta la metodologia Sia curata Sì Però la metodologia Non è storia No Ma Cioè Tipo Studiate Cioè Per loro Cioè Studiavate magari Se Questa tipo di mitologia Per loro Erano Motivo Di vita Come Cristo Per I cristiani All'epoca Allora Non te lo studierei Con certezza Perché È più una cosa Che studi A livello Come dire Più per chi fa Magari lettere Queste cose qui Perché si tratta Proprio del campo Del Poi Molti sono scritti No Poemi Leggende Miti Sono tutti poi scritti Da diversi autori Eccetera Però Credo di poter affermare Tranquillamente Che I greci A quell'epoca I greci Dell'antica Grecia Ci credevano In Fortemente In queste Storie Credevano Beh Come tu sai Erano comunque Politeisti Quindi Gli dèi come Zeus Apollo Atena Poseidone Ares Eccetera Per loro Esistevano Veramente Un po' come I norreni Sì Stessa cosa Loro A quel tempo Avevano Quei tipi Di credenze Là E Ci credevano Fortemente Così come Poi Gli stessi Romani Che Assimilando Anche la cultura Dei greci Avevano Questi rimandi Agli dèi A questi dèi Che Più di tante cose umane Non si interessavano Ma comunque Dedicavano Le loro offerte Templi Perché 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 no Guerre Canti Di tutto Infatti Se Vi ricordate Magari L'avete fatto anche Alle superiori Comunque a scuola I poemi Si aprono Con I proemi I poemi Si aprono Con i vari proemi Che sono L'invocazione Alla musa E le muse Erano Le tre muse Erano le divinità A cui si ispirava Il poeta Per poter Scrivere O cantare Di ciò che voleva Di scrivere Quindi Avevano Una forte credenza In questo Nelle divinità Beh un po' Come poi Come noi Magari per chi Crede In dio O crede In Buddha Eccetera Eccetera No è molto Interessante Io poi per esempio Ho sempre amato Personalmente La mitologia Greca Mi ha sempre affascinato Un pochettino Anche tutte le leggende Minotauro Quelle robe Infatti Mi sarebbe Piaciuto Approfondire Magari alcune cose Per esempio Non so se voi Vi ricordate Quel famoso Film Con Brad Pitt Mi sembra Troi Esatto E quindi Ti chiedo Magari Non so se Nel tuo campo O meno Però quanto È accurato Un film del genere Che riporta un po' La guerra di Troia Allora Non è tanto accurato Dal punto di vista Allora Parle del presupposto Che la guerra di Troia Venne narrata Dai poemi omerici Anzi In particolare Dall'Iliade Di Omero Quindi Inizialmente Ci si basava Su quello Che lui racconta All'interno Di quel poema Facendo ricerca Proprio A livello archeologico Hanno scoperto Che quella Guerra di Troia Ma in realtà Non solo quella Ce ne sono state diverse Mi sembra Sono state addirittura Dieci Una decina Perché quello Era proprio Un punto strategico Che era All'epoca Di vitale importanza Controllare E nel fare Nel fare ricerca Nel fare rischiare Hanno ritrovato Tra le varie fondamenta Quella Particolare In cui Sembra essere Ambientata Il poema Dell'Iliade Infatti Era proprio L'Iliade Questa cosa Quando l'Eliade Storico Si esistita Diciamo che Troia Fa un po' leva Sul discorso Cioè cerca di ispirarsi All'Iliade Come racconto Troia si Sono sbagliato Un po' L'Iliade Però Diciamo Neanche troppo fedele Al poema Perché mi ricordo Io l'ho visto Tantissimi anni fa Però mi ricordo Che Non era Proprio Non seguiva Proprio Il poema Cioè alcune scene Alcune anche scelte All'interno del film Andavano proprio a cozzare Contro il poema Tipo Mi ricordo che All'interno del film Achille e Patroclo Non mi ricordo Se nel film Era il cugino Mi sembra Venisse presentato Come il cugino di Achille Nel film In realtà Nel poema Sono migliori amici Perché questa è una banalità Però avevano cambiato Alcune cose Oppure Alcuni interventi Degli dèi Che sono menzionati All'interno del poema Durante le battaglie Durante gli scontri Non ci sono nel film Quindi hanno anche un po' Travisato Hanno fatto Proprio una versione Un po' Lì Però è una cosa Straffascinante Cioè partire Comunque Da leggere Questo racconto Da questo poema Lì Che uno quando lo legge Lo prende per quello Che è un racconto E poi riuscire Comunque Scavando A vedere Che c'è un bel fondo Abbastanza grosso Di verità Quindi il fatto Che la città di Troia Sia veramente esistita Questa è una cosa Che mi sbaglia Tribunente Ma se che è stato Il primo A fare ricerca In questo È stato Una persona Che ha sempre creduto In questi miti Sì E ci credeva talmente Fortemente a dire No no Io andrò E troverò Quello che sto cercando E è stato Schliemann Infatti Schliemann si chiama L'archeologo Che ha scoperto E infatti ha fatto Un libro che si chiama La scoperta di Troia In cui parla Dei suoi Dei suoi Delle sue ricerche E poi Sul campo E non Per Per andare A scoprire Troia Esattamente La collina Su cui era posta La città Dal secondo il poema E poi da lì Lui è partito Per andare A ritrovare Altri Tutti Tutte altre Come si diceva Tutte altre scoperte Infatti Aveva trovato Un sacco di cose Legate alla civiltà Micenea Perché comunque La guerra di Troia Sembra che sia ambientata Durante la civiltà Micenea E ce l'ho E ce l'ho anche Questo libro Adesso Se lo trovo Vi faccio vedere Infatti Cioè Quante volte Capita in un contesto Storico Di In questa situazione Un po' Come è successo Per la città di Troia Praticamente Cioè Che da un racconto Diciamo Fittizio Riesce a trovare Qualcosa Che è esistito Veramente Ma magari Nessuno credeva Come può essere Lui Lui proprio Ci credeva fortemente Era talmente Affascinato Da questa storia Da questo Quello Ha detto No io Io lo troverò Io Sono sicuro Di un giorno Di riuscire A dimostrare Che Troia esistita Che quindi Questa 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 storia Sia vera Poi Anche lì Lo stesso Omero Diamo un termine Moderno Era umanzato Chiaramente Non è Portato tutto Storicamente Accurato Tutto il Il racconto Che lui fa Però È quel poco Accurato Mettiamola così Da poter La poterlo far trovare No beh Ci sto Questo Questa è una cosa Che Mi ha sempre affascinato Questa cosa Molto figa Molto figa E riguardo a Roma È nel vostro interesse In che senso? Di studio Sì Puoi fare Puoi fare L'esame Proprio Su storia romana Se vuoi Puoi fare Anche la tesi Puoi fare Quello che vuoi Su storia romana La cosa Che mi viene Sempre in mente Dei romani Che è una Delle poche cose Mi è rimasta In testa Che questi qua Mangiavano Di continuo Ma poi Vomitavano Per rimangiare Per far vedere Quanto cazzo Erano potenti Non so Se sia una cosa Vera Per dimostrare Quanto erano potenti E ricchi Dopo che finivano Di mangiare Vomitavano Per continuare A mangiare Per vedere Che se li potevano Permettere Ed erano belli potenti Così su dei piedi Mi sembra Una cosa Una cavolata Però Non te la possono Confermare E smentire Perché non Allora Romani No I romani Vomitavano Per mangiare Durante i banchetti Gli antichi romani Vomitavano Pur di continuare A mangiare Falso Ma c'è Chi si è spinto Oltre Le case dei nobili Avevano Un vomitorium Una stanza Creata Per questo Scopo Scusa La fonte Cosa Chi è Il corriere Però qua Dice Tra parentesi Le false Credenze Che Crescono Che aveva Gippo E' una falsa Credenza Però è figa C'è Oddio 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 Ma Certo Però Il vomitorium Ci sono C'erano Gli schiavi Cioè Pulivano Gli schiavi Tanti piccoli Diron Lei è un uomo Orribile Comun Io faccio Il sindacato Per tutte Quelle Povere Persone Che Facciamo Quei Lavoro Vabbè Ma Un po' E' un po' Come dire Noi tanto Ce lo possiamo Permettere Non mangiamo Cioè Non mangiamo Una cosa Non la finiamo La buttiamo Loro se lo potevano Permettere La mangiavano La buttavano Il modo in cui La buttavano Faceva Magari Il modo in cui La buttiamo Noi in maniera Un pochettino Più Fine Forse Vabbè Vabbè Troppo Mi sembra anche Secondo me E' una falsa Notizia Ma Altra domanda A te Qual è il contesto Che più ti aggrada A me A me piace molto Il contesto Contemporaneo Che convenzionalmente La storia contemporanea Va dal Congresso di Vienna 1814-15 Fino Le giorni nosi Per parlare poi Quella che viene chiamata Ipercontemporaneità Comunque Visto abbiamo parlato Di anche Seconda guerra mondiale Che quanto ha fatto Tra la prima e la seconda Ha circa 110 milioni di morti Mi pare erano 68 milioni La seconda Sì Mi sembra 6 milioni Dovrebbe essere la prima 6 La prima Sì sì La seconda E' stata più Di rastante Ma perché Nella seconda Sono stati uccisi Molti più civili Rispetto a quella prima Cioè la prima fondamentalmente Morti Prima Guerra mondiale Forse 10 milioni 16 16 Nella seconda O prima Aspetta 16 milioni Di morti E 20 milioni Tra feriti E mutilati Ok Perché mi ricordo Nella prima guerra mondiale C'era la problematica Che poi subentrata Dell'influenza Spagnola Quasi a guerra Ultimata Perché Nel 1918 E poi si Propaglia Ovunque E comunque Niente C'era il mio nonno Che segue Il telegiornale Una Ieri Mi sembra Ci ha detto Eh Hanno detto Al telegiornale Che il covid Ha già fatto 200 milioni Di morti Più della Seconda guerra Mondiale L'ha fatto No no 200 milioni Massimo Saranno I contagiati Perché Si ha fatto 200 milioni Più della guerra Cioè Puttana Eva Ma nemmeno La peste Ha fatto 200 milioni Di morti Il problema Però È che Proporzionati Alla popolazione Mondiale Che c'era Era grave La peste nera Aveva ridotto Poi non vorrei Dire cagate Qua c'è Seba Che mi corregge Aveva ridotto Notevolmente La popolazione Mondiale Così come L'influenza Spagnola Insieme alla guerra Non so se L'aveva ridotta Più del 10% Eh All'artilizzato Con Reale Non Non te lo so dire Con precisione So che però In realtà La peste Allora Noi Voi conoscete 20 milioni Per la peste La peste Un terzo Della popolazione Del continente Però Sì Però è la peste Che voi conoscete Del 1348 Che è quella Di cui scrive Il boccaccio Nel Decamerone È una malattia Che si presenta A più fasi Durante In realtà In tutto il corso Della storia medievale Solo che ci sono Momenti in cui Fa più vittime Ne fa meno Però diciamo Che è una malattia Che si ripresenta A ritmi Non so se regolari O regolari E comunque Periodici All'interno Della popolazione Quindi Era una cosa Purtroppo Con cui ci dovevano Fare i conti Gli abitanti Dell'epoca Poi Chiaramente Si poteva aspettare Una devastazione Totale Così come Una lieve Malattia Però Ce ne sono Veramente tante Che Che si susseguono Nel corso Della storia Medievale E poi Qualcuno Si ripresenta In storia Moderna Durante Per l'altro Avevo letto Che è colpa nostra Se c'è la peste Però io non so Se è vero No Colpa dei genovesi Ah Proprio Ora Ora Magari Seba mi Correggio Spero di sì Quindi Prendete Con le pinze Iper Mega Ok Quello che sto dicendo Perché la fonte Non è per niente Attendibile Ma avevo letto Che allora I genovesi All'epoca Erano Dei corsari Famosi Su tutto il Mediterraneo Avevano un sacco Di rotte commerciali Erano molto Molto potenti E i pirati Temevano anche I genovesi Nei maghi Mi sembra Di aver studiato Barra letto Barra non lo so Barra correggimi Tipo Eip Sento così Sono tanti Che in quel Mediterraneo Hanno forse Maritime Belle Consistenti Come appunto Più importanti Sono i miliziani Ci sono Ci sono I Scusami I genovesi I veneziani Poi subentrano Anche gli inglesi E noi toscani Eravamo a fare il panno E senza sale A combattere Per un periodo Ci sono stati anche I pisani Pisani di merda Quindi I diamanti Fan fact Per i genovesi La bandiera Quella là Di Genova Quella lì Bianca Con praticamente La carroce Come gli svedesi Fammi vedere Che è anche La bandiera Che ha Se non sbaglio Londra Mi sembra Non posso dire una cagata È la bandiera Di Londra Sì Sì Solo Londra Ha le due Tipo la X Che ha detta Tra l'altro Del sindaco Di Genova È in prestito Non è loro Non è dei Dei rondinesi Con la bandiera È di Genova Praticamente Cos'è successo Poi ripeto Seba Correggimi I genovesi Hanno prestato Su richiesta Quella loro Bandiera I rondinesi Perché Perché le navi Mercantili Dei rondinesi Erano sempre Diciamo Sotto assedio Dei corsari Allora Se loro Mettevano La bandiera Di Genova I corsari Avevano più timore Di abbordarli Perché i genovesi Erano rinomati Nei mari Per essere Degli ottimi corsari Il debito In realtà C'è ancora Dopo Un certo anno Hanno smesso di pagare Non mi ricordo Cosa è subentrato Ma in realtà Per Regge Il debito C'è ancora Quindi Londra Ci dovrebbero Un sacco di soldi A noi In realtà Potrebbe No no Potrebbe essere vero Ciò che dici Soprattutto In epoca moderna Comunque La La Repubblica Di Genova Era legata Con Probabilmente Quello che dici tu Cioè le navi inglesi Difendevano Cercavano Di difendersi Dalle incursioni Degli spagnoli Perché In quegli anni Fra Filippo II Re di Spagna E Elisabetta I Di Inghilterra C'era Un C'era un bel confronto C'era Un bel po' Di problematiche Quindi Parlando della Guardia di Corsa Nel Mediterraneo Probabilmente è vero Che Avevano utilizzato Questo spediente Per non essere attaccate Perché comunque Genova era legata Alla La corte di Madrid Quindi ci può essere vero Non lo metto in dubbio Comunque C'è scritto che Allora Sono andato anche a cercare Qua la bandiera inglese Vabbè Così da due croci Che non ci interessa Si sa Le cose sarebbero andate così Eravamo i tempi in cui La flotta spagnola Più o meno Intorno al 1500 Era la più potente del mondo Erano già alcuni anni Che Colombo Aveva scoperto l'America Unissibile armada E gli iberici Avevano cominciato A sfruttare quelle terre A portarsi a casa Le ricchezze Che trovavano Oro compreso Anche gli inglesi A loro volta Erano impegnati Ad arraffare Quello che potevano Delle terre America del nord Che avevano occupato Succedeva però Che quando le navi spagnoli Inglesi si incontravano Dato che storicamente Erano nemiche Era uno scontro Che solamente Finivano a favore Degli spagnoli Che rapinavano I valori Delle navi inglesi Per questo Gli inglesi Si erano rivolti A Genova Che sebbene Non fosse più forte Come in passato Era ancora temuta In mare Avevano chiesto Di poter mettere In cima All'albero della nave Sopra la loro bandiera Quella di Genova Cosicché gli altri Vedendo l'insegna Genovese Non l'attaccassero Proprio per capo Amo l'epoca Di corsari Di pirata C'erano proprio nel sangue Perché il bisnonno Del tuo bisnonno Del bisnonno Trisago Sì 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 O un pirata Non lo so Magari un temibile Pirata Di sette mari Ma pensate E no E dicevo invece Della peste nera Avevo letto Quindi di nuovo Qua Corraggimi se sbaglio Che essendo che Genova Aveva un sacco Di rotte mercantili Per cui anche in Asia Se non sbaglio Era successo Che su una stiva Di una nave Erano entrati Dei topi in fe Che poi queste Vennero portati Diciamo nel Mediterraneo E da qui Poi si diffuse Può essere vero Quello che so È che la peste Come la conosciamo noi Tipo quella del 1348 È trasmessa Più che dal topo Dal batterio Che il topo porta Che è l'Irsigna Pestis Si chiama Quindi Non escludo Ma infatti Credo di sapere Sapevo se non erro Che era arrivata Dalle navi Che trasportavano merci Dalle navi provenienti Dall'Oriente E quindi chiaramente Sbarcando Nei porti Nei vari porti Del Mediterraneo Mordendo Comunque Non so se era Si era il morso Mi sembra Del batterio Sulla Sulla pelle Chiaramente Delle persone Si trasportavano Comunque Dylan in realtà È immortale Ed è lui proprio Che ha causato Tutto ciò E quindi Ce lo dice Perché vuole fare Il finto tonto Per questo Ciò Dietro al covid C'è Genova 100-100 C'è stato dietro alla peste Che tra l'altro Anche la Lombardia Aveva chiesto Di poter usare Il simbolo di Genova Quindi Quindi Seba Seba Qua siamo rimani Purtroppo Purtroppo Pensate No no Questi Questi fan fact Fan fact Ora È il termine appropriato Però mi sbagliano Mi piacciono un sacco E Sono contento Di avere qua nel podcast Un esperto Come Seba Che Mi parlo Ora ci vuole Più di meno Lui al quadrato Rispetto a noi Sei esperto Cioè Per noi Tutti è Indiana Jones Cioè Io ti vedo Col capperino Ah magari Ci voglio Sicuramente Per me È ancora un po' Il corso lungo Poi come vedete Ci sono talmente Tanti temi Da poter affrontare Da poter Come dire Approfondire Che Forse non ti basterebbe Neanche una vita Per A te piacerebbe però Lavorare proprio Sul Sul campo Sì Sì La parte Proprio come un archeologo No L'archeologo no Perché l'archeologo appunto Diciamo che è anche un'altra facoltà Quindi lui è proprio quello che si occupa Di cercare Anche sul campo Ovvero è proprio È come se fosse un cacciatore di storie Proprio di leggende Sì però l'archeologo è più Come dire Rivolto per Le storie Cioè veramente per le epoche molto antiche Come può essere quella dei romani Come può essere quella dei greci Etruschi Eccetera No diciamo che Come storico Almeno nel campo dove mi voglio specializzare io Che è quello contemporaneo Si lavorerebbe sui documenti Tipo Le fonti Possono essere documenti Possono essere le lettere Che magari due personaggi dell'epoca Si scambiavano E da lì fare Proprio da queste cose Fare ricerca Più che andare ovviamente a scavare Nella terra Quello che è Non è un compito dello storico E si basa più sullo studio negli archivi Nei documenti E cose così Per l'epoca contemporanea Quindi questa qua un pochettino più recente Quanto c'è ancora da scoprire Storicamente parlando? Secondo me ci sono tantissime cose ancora da Da poter approfondire Poi ad esempio Esempio banale I tempi in cui viviamo oggi Sono Storicamente Dovrei ancora definirli Cioè per avere una visione chiara Completa Il più possibile di Ciò che accade I giorni nostri Ci vogliono anni Ma E anche la prima informazione Ci vuole tempo Invece Per qualcosa che è successo Come il secolo scorso Oppure due secoli fa Nel 1800 Hai Molte più Molte più fonti Molte più dati Su cui poter lavorare Io ad esempio Non lo dico Ma La ricerca di dottorato So già su cosa farla Se ci arriverà E un'ultima domanda Perché siamo già un'ora e dodici E il mio cane Non so se qualcuno Gliel'ha dato da mangiare Che ho sentito forse E Secondo voi Quest'anno L'anno scorso 2020 Sarà poi storicamente raccontato Secondo me sì Perché è una pandemia Sì è un qualcosa Che ha coinvolto Tutto il mondo Cioè Semplicemente Come tutto il mondo Probabilmente Uno storico Fra cento anni Come dice il buon Barbero Il buon Alessandro Il nostro bate Il nostro Alessandro Barbero Avrà una Chiaramente avrà Tantissimi elementi in più Per poter valutare La situazione Anche in maniera Più distaccata Più oggettiva Perché ovviamente Vivendoci dentro Magari siamo anche condizionati A dare un giudizio Suggettivo Esatto Però sì Cioè sicuramente Sarà un periodo Che verrà ricordato Magari tra qualche anno Si capirà Se abbiamo effettivamente Agito nel miglior modo O meno Quello solo Solo il tempo Lo dirà Ci vorranno anni Prima che Si potrà dire Sì questa cosa È stata fatta bene Sì questa cosa No questa cosa È stata fatta male Si deve fare in altro modo Eccetera eccetera Però Secondo me ancora di tempo Ce ne vuole Ci vuole tanta raccolta Di informazioni Anche perché poi E guardare tutti i paesi Che ha coinvolto Quindi non solo Quello La realtà locale Quindi è un lavorone È enorme 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 Sì 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 Come dice anche Barbero Che È bello Stare proprio Cioè è ganso Come storico Essere in un momento storico Dove hai fatto La storia Però non è effettivamente Così bello Perché comunque Quando è un fatto storico Vuol dire che c'è Proprio qualcosa Di un impatto grosso Sì No ma poi anche perché La storia è passato Quindi tu Lo storico Studi del passato Del presente Purtroppo Proprio quello storico Fa anche fatica A studiare l'obra Ma perché non è gli elementi Per poterlo fare Cioè tu hai bisogno Che la cosa sia quasi Morte e sepolta Tu sai che è successa Raccogli le informazioni Che si sa Però sai che è successo Invece qui sei nel Mezzo della vicenda Quindi chissà Però comunque Io penso che Comunque Tutto quello che noi studiamo Non sia effettivamente Il vero Cioè comunque Noi studiamo una cosa Tipo non so Una cosa banale La scoperta dell'America Ma magari Non è andata Effettivamente così Magari l'ha scoperta Qualcun altro E Però si è presi i meriti Eh qua Questo dico Secondo me Quando si studia la storia Non è detto Che quello che studiamo È effettivamente Quello che è accaduto E non lo sapremo Tante divergenze Perché può subentrare Quello che è l'errore umano Perché comunque Anche gli esseri umani Di 500 Di mili anni fa Sempre esseri umani Imperfatti erano Quindi potevano magari Fare delle trascrizioni Sbagliate Magari fare le proprie Sbagliate apposta Per Sì No ma Noi diciamo che Tutti i basi Su quello che Sì quello che te l'ho lasciato Quello che te l'ho lasciato Poi sai Se non hai una fonte Se non hai una prova Nel dire Che ne so Adesso faccio Dico una cosa Che gli inglesi Ci sono andati per prima In America Se non hai un riscontro Cioè tu lo puoi benissimo dire Però rimane una tua ipotesi Per me c'erano prima I genovesi In America No Cioè può essere Qualsiasi cosa Cioè Se tu studi Tu fai storie A partire dalle fonti Che hai chiaramente Poi comunque Credo che siano fonti Anche abbastanza attendibili Perché sono tutti anche lettere Che venivano scritte Mandate Quindi c'era Corrispondenza reale Rivolte ai monarchi del tempo Cioè i diari Ci sono tantissime cose Poi Che siano stati Che ne so I Come dire I I vichinghi A scoprire l'America Tutto può essere Bisogna Anche Hanno scoperto La La Svezia Devi sempre Diciamo che in storia Quando tu fai Come dire Vuoi dare un'affermazione Di un qualcosa Devi sempre avere Una Delle fonti Delle prove Che sostengono La tua ipotesi Sennò Rimane un'ipotesi Che tu puoi benissimo fare Però rimane come tale Quindi non puoi prenderla Come Come verità Come verità assoluta Come senso assoluto Devi solo Fare ricerca Su Su quel determinato argomento Personaggio Che tu vuoi portare Su cui vuoi portare L'attenzione È un campo anche ostico Quello della storia Effettivamente Però è molto interessante Quindi Seba C'è Un domani che fai Ricerche anche sul campo Tienici informati Perché Sbaglio un sacco Vabbè Guarda Io l'unica cosa Che posso dire Su questo podcast Perché per chi lo vedrà E se è interessato Per chi non dovesse conoscerlo Magari c'è qualcuno che lo conosce Su YouTube È pieno di video Di Alessandro Barbero In cui potete Delle più svariate tematiche Su cui Uno si può tranquillamente documentare Vederselo anche come passatempo Che dice sempre cose molto vere Ovviamente Scutato dirlo Però è interessante E poi è un modo di intrattenere Secondo me Veramente bello È un buon modo di parlare Lui proprio Sì sì Poi Sì sì no Ti coinvolge proprio In ciò che stai dicendo Riesce Riesce a rendere i partecipi Si fa Si vede proprio Quanto gli piace Si vede proprio Quanto gli piace Che ama Quello che Che fa La cosa interessante di lui Che Che ho sempre visto È che Allora lui Vabbè In ambito Diciamo nella vita comune Tutti i giorni È un divulgatore Nel senso che lui Parla Anche in maniera Comunque abbastanza approfondita Di tantissimi temi storici diversi Però lui Nell'ambito accademico È un medievista Quindi lui È uno specialista Di storia medievale Insegna Storia medievale All'università Comunque storia medievale È una figata Cioè Il medioevo È proprio bello Sì sì no è bello Lui Lui in particolare È A livello accademico Quindi le ricerche Che fa in accademia Nell'ambito Della medievistica Diciamo Alta Per così dire Lui Ne fa parte È uno di quei tipi Di ricercatori là Poi per la gente comune Fa divulgazione Come può essere Roberto Angelo Eccetera Solo che Comunque c'è proprio il fatto Che lui è uno storico A tutti gli effetti Anche di più forse No ci sta Ci sta Eh ragazzuoli Si appassiona Certo Che dire Si parte Con la siglina Anche della fine Si sa sempre la stessa Perché siamo Siamo tier Abbiamo soldi Sì No non è che abbiamo soldi Per una È che L'ho comprato questa C'era di già Ad esempio Se voi guardate Anche Esatto Se voi guardate Anche DL Podcast Che è il podcast Di Danny Lazzarin Anche lui Usa la stessa sigla Perché c'è la stessa Consolettina Comunque Siamo un po' tutti Genovesi Fa culla te Genovesi Comunque Niente Dai È stata molto interessante Spero che pensino La stessa cosa Che l'ha seguita Speriamo Lo spero anche io Grazie Seba Per aver passato La tua retta Di non aver dato Troppo informazione Alcuni campi Quindi Mi piaccio Giugazione Ah no Mi ha fatto un piagire Ma era proprio bello così Era bello così Un po' alla casciara Sì Ma sì Ma tanto ragazzi Se mi limitate anche tra qualche tempo Avrò anche approfondito ulteriormente Le cose in cui parlavo Perché io I miei studi proseguono sempre Vabbè Grazie Ragazzi È finita la sigla E noi ci si vede Ciao A martedì prossimo Alle 14 Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti.